Ciao a tutti i toretti e benvenuti in questo ventiduesimo episodio della serie Made in Italy seconda stagione qua su Farmy Simulator 2017 quest'oggi da fare una cosa un po' inusuale, passiamo in mezzo al capanno come direi i soldi diciamo che in teoria direi che siamo messi bene perchè ho aggiunto un bel po' di soldi per il semplice fatto che non avevamo più le colture e ci servivano ancora molti mezzi che non avevamo più comprato quindi così dopo siamo a posto allora mi serve un attimo un trattore, direi di prendere questo in teoria me ne servirebbe un altro, però va bene quest'oggi ci occuperemo principalmente degli animali e ho venduto ecco la trebbia perchè prossima trebbia direi che sarà una bella laverda andiamo un po' mi lascia qua allora togliere con left shift shift però è questo, però è questo aspettate left shift x ok andiamo un po' andremo a vendere anche qualche mezzo direi ma ok più di così non ci lascia e prendiamo quest'eye quindi lasciandoci vendere i mezzi ci arrangeremo un po' così ma che cavolo ho appena detto? vabbè lasciamo perdere c'è qua trasporti eccezionali non li leggo perchè in teoria dovrebbero stare dimmi che non li oh perfetto c'è stato preciso vabbè io nel dubbio li leggo così almeno stanno molto di più comunque quest'oggi andremo ad acquistare gli animali i primi animali che saranno le pecore in teoria ne abbiamo già quindi saranno le vacche ebbè questo qui è veramente un bel trasporto allora intanto fatemi togliere gli ad ci compreremo un po' di vacche e ovviamente un possibile acquisto diciamo la possibilità molto più probabile sarà quella di noleggiarlo un bel carretto però forse lo acquisteremo anche costa 65.000 euro è il rimorchio dello Scania per i pezzaioli però direi che vediamo vediamo comunque abbiamo tutti questi mezzi perchè allora prima cosa ci compriamo il merlo seconda cosa ci compriamo lo come si chiama il carro miscelatore esatto che non avevo più comprato e altra cosa se riusciamo ad arrivare su dobbiamo vedere un po' per le botti e per gli spandiletane comunque adesso molto probabilmente vi alternerò questa serie con la serie agricola quindi ottimo ah e inoltre se riusciamo pensavo di acquistarmi un altro trattore dato che ho venduto il Lamborghini il same diciamo che l'ho tenuto ancora il same Rubin mentre il Lamborghini l'ho venduto perchè non mi piaceva moltissimo diciamo che il same spicca di più col rosso ma il Lamborghini era un grigio un po' particolare allora siamo su dai piano piano arriviamo ci sono ancora tanti tanti campi in questa mappa quindi c'è tanta roba da fare mi ero letto un commento che da tradizione si arriva ai 100 episodi ma in questa serie non si arriverà mai ai 100 episodi cioè non è una tradizione mia non siamo arrivati ai 100 come minimo adesso sarà chiuso esatto apro le 2 grazie ma però ho ripristinato un paio di cose dovrò aspettare per prenderle perfetto non è nel mentre eccolo qua il rimorchio l'avevo già acquistato c'è il rimorchio il feraboli direi di lasciarlo lì per il momento e inizierei a scaricare un po' di mezzi cioè me lo collego già già che ci sono bellissimo questo Fiat è veramente a parer mio forse l'unico Fiat non decente ma ben fatto ben curato che ho provato ok eh no aspettate andiamo a piedi senora che facciamo tutto il giro togliamo il same anzi si togliamolo già subito scopriamo subito il merlo che non ho idea di quanto possa costare però costerà sugli 80.000 almeno spegniamolo allora acquisti acquisti allora merlo lo troviamo qua e costa 90.000 alla faccia forche no vabbè prendiamo pneumatici larghi standard full optional faro telescopico lampeggiante vabbè per 200 euro facciamo così vediamo un po' no che cavoli sto facendo continuo a fare esc eh si ci costa lo stesso non costa nulla di più comunque voglio prendermi anche le csz le balle forche per balle prendiamo questo caricatore frontale no pala caricatrice pala gommata pinza aspettate pala caricatrice questa non ho più quali idee di cosa sia caricatore frontale pinza telescopica ok e questo siamo a posto vediamo un po' dov'è eccolo qua il nostro piccolo merlo tanta roba al merlo guardate che per no però il joystick non ah si che funziona ok perfetto grazie csz di essere spawnate così se volendo questo qui potremmo anche non come si dice non portare sul pianale per questo e basta però vabbè a sto punto facciamo così allora non si posso richiudere quale forche cavoli c'è una cosa del tipo ok c'è la collision del del roll bar che non posso neanche dire lo dobbiamo lasciare così per forza poi 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 altra cosa che ci serve un caricante però non abbiamo i soldi animali aspettate animali ci serve d'altro questo ce l'abbiamo questo pure eccolo qua vediamo un po' quanto ci costrebbe 5.000 euro a noleggiarlo a sto punto non lo noleggiamo o si o ce lo compriamo vediamo 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 perché prima mi vorrei prendere ecco spandi con cime 49.000 euro c'è il crosetto perfetto poi ci sono le botti queste due direi di andare subito con quella originale dai eh no comprarceli subito però no ci compriamo subito aspettate come si è messi con gli animali come si è messi un po' vediamo allora dovrei portare un po' no beh produttività 10% però ci hanno tutto ah ok manca erba e fieno perfetto quindi c'è l'erba e fieno forse non l'avevo neanche mai portata quindi ci serve anche un caricante andiamo con quello di default anche qua allora un bel bergman e via perché gli italiani c'è ci sono troppo piccoli anche questo qui porta 25 si è un po' troppo poco però dai andiamo col menghele menghele ce lo vuoi acquistare quando fa così è veramente una cosa bruttissima vabbè non ce lo vuoi acquistare c'è impiega le ore quindi andiamo con l'altro andiamo con il bergman oggi veramente sarà soltanto una giornata di acquisti e così che sono andati 70.000 euro poi tecnologie per balle ecco devo aggiungere l'imballatrice quadra seminatrice anche dovrei acquistarne mi sono aggiunto questa vediamo un po' come funziona la acquisto subito però quasi quasi dai acquistiamola subito oppure ci sarebbe la pinta vabbè per ora teniamo questa la pinta l'avranno già utilizzata sinceramente coltivatori ok vabbè noi abbiamo questo che è là dentro comunque adesso ci compriamo allora aspettate già che ci sono faccio una cosa del tipo che prendo l'asseminatrice me la piazzo sul aspettate forse devo collegarli per forza cioè devo comprare per forza la parte esatto mi serve anche l'erbice infatti mi sembrava che fosse una combinata vabbè non è un problema per noi fa niente fa niente è meglio così anzi questi 4 metri è parecchio larga vabbè dai fa niente almeno è molto meglio rispetto all'altra quella che avevamo la pottinger che era fatt... cioè era 4 metri ma era troppo esagerata anche se questa è parecchio larga non è molto utilizzata in Italia direi perfetto non riusciamo nemmeno a salire ok sganciata e non starà mai come minimo con questo punto io mi compro il carro per gli animali me lo compro alla fine dai mentre per il spandiletame e spandiliquame vedremo poi più avanti 65.000 euro ed ecco cavolo ho fatto la cavolata però c'erano anche questi vabbè alla fine costavano sempre di più quindi per la capienza quindi nada allora io mi collego questo perfetto e intanto aspettate che mi sistemi un po' le cose li piazzo qua davanti anzi li porto già fuori perché se dovessimo andare avanti il tempo dopo succedono i peggior casini e resta tutto qua dentro in teoria la paglia dovrei ancora imballarla però vabbè si farà non ci da la multa almeno non dovrebbe darci la multa se restiamo qua davanti comunque saltiamo via la staccionata ah ecco volendo si abbiamo il Bergman quindi possiamo usarlo prima dalle vacche per la paglia così la raccogliamo con quello non è male come dire ok ed ora andiamo a prenderci il nostro bel carretto il nostro bel sametto vediamo un po' dov'è che è il nostro punto vendita c'è un punto d'acquisto degli animali che è qua vediamo vediamo un po' ok praticamente siamo in fondo alla mappa noi siamo dove? qua facciamo questa strada aspettate questa qui è la strada della farm aspettate fatemi dare un attimo un'occhiata no aspettate questo qui è il biogas chiuso ok sì praticamente noi arriviamo giù qua e giriamo a sinistra perfetto e tra l'altro abbiamo ancora questo che mi sa che lo venderemo breve adesso fatemi un po' cercare ok eccolo qua il nostro bel pezzaioli che in teoria andrebbe attaccato allo scania però a noi non importa moltissimo non importa moltissimo andiamo lo stesso così ok non voglio tirar giù niente vediamo un po' se è ancora vivo sì cioè è vero grande comunque è un 170 ah ecco cosa abbiamo preso il trattore lo prendiamo dopo io direi di andare subito con 24 vacche anzi farne acquistarne vabbè 50 no però arriviamo a 48 vacche poi non sarebbe ma guarda che discesa mamma mia se in piedi poi ci rivalteremo sì ci saremmo rivaltati in realtà però è il same questo qua merita vabbè il trattore nuovo se caso lo prenderemo più nei prossimi episodi se non facciamo in tempo oggi intanto adesso questa serie qua ha una priorità rispetto alle altre serie allora qua aspetta sterrato poi giriamo andiamo dritti e giriamo a sinistra no aspettate possiamo ok per qua si gira cioè di qua si gira a destra c'è il punto vendita però che ci lascia andare avanti c'è la stradina che va a sinistra e si collega se no ci collevamo lo stesso qua è aperto no è chiuso sì ci lascia perfetto 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 non mi ricordo più quante pecore abbiamo dopo gli diamo un occhio quando siamo arrivati comunque vediamo un po' penso sia un trigger unico però nel dubbio io mi piazzo qua bello dritto anche se qua sembra più diciamo un punto di scarico compra allora come 12 ah ok erano 24 maiali quindi 12 saranno parecchi viaggi sì diamone un po' aspettate ditemi ok c'è il doppio piano perfetto questo qua si può anche aprire apri rampa cavolo dobbiamo aprirla vabbè l'apriamo dopo nello scaricamento eh sì essendo 12 30.000 mi sa che 50 capi non riusciremo mai a arrivare dovremmo fare 30 60 120.000 euro ops esatto c'è la collision ma dovremmo fare sì spendere 120.000 euro in vacchi io direi che al massimo ne spenderei 100 ne prendiamo 40 vacche ecco no forse non arriviamo a spenderemo più di 100 però facciamo 40 vacche 10 20 30 40 quindi fate conto 30 60 eh no faremo quasi 110.000 euro e ci prendiamo 40 vacche vabbè fa niente fa niente non so neanche benissimo una strada comunque direi che quest'oggi ci siamo veramente sbizzarriti negli acquisti poi a breve arriveranno anche altre attrezzature un po' migliori sì perché comprare subito Lamborghini forse non ve l'ho detto il nome del mezzo comunque sarebbe un Lamborghini che mi sarei dovuto acquistare comunque diciamo comprarlo subito ora diciamo che è un po' troppo nuovo rispetto ai mezzi che abbiamo comunque non so se è una mia impressione ma sono troppo alto di visuale in cabina oppure non lo so è pure troppo zoomata la visuale all'interno vabbè tanto sta che alla fine ci vediamo lo stesso con questo pezzaioli ci sta ci sta ci sta ah ok la multa non l'abbiamo presa siamo arrivati anche in farm il campo dovrei ancora finire di trebbiare sinceramente magari nel prossimo episodio voi vedrete meno soldi perché mi sarò acquistato la nuova trebbia la farò anche vedere ovviamente ma non subito allora dove si scaricheranno le vacche ma tra l'altro qua dovrei portare a vedere anche il latte mi sa penso che si scarica qua c'è le vacche non il latte e un po' le manovre intanto apriamo perfetto ok questo nel frattempo io mi faccio anche una screen se mi riesco a sbloccare perfetto no perfetto niente però io voglio prendere anche il trattore vediamo un po' se riesco ad andare di là c'è una cavolo di trincea ok perfetto non l'ho fatta come minimo fatemi rifare perché ultimamente non so perché ma farming mi da problemi con le screen dovrei eliminare forse quelle vecchie comunque ci piazziamo qua e scarichiamo peccato che non c'è l'animazione e abbiamo scaricato le nostre prime 12 vacche peccato si che non c'è perché sarebbe stata una grandissima cosa ci lascia entrare no si sarebbe stato bello poter entrare comunque vediamo un po' dove sono eccole qua nostra prima vacca dovremmo portare ancora da mangiare tutto quindi vabbè farò più che altro off camera chiudiamo un po' i cancelli no perché sennò se ci scappano sono un po' di problemi 30.000 euro sprecati sarebbero e tra l'altro c'è l'altro cancello che è no vabbè qua vanno nel pascolo ecco guardate questa è già andata nel pascolo no devo chiudere questo cancello allora esatto perché il prato sotto non c'è nulla oh no no devo aprirlo cioè non passeranno mai questo qua è chiuso ok un attimo di sotto per qua che strada fanno se passano loro ah cioè spiegatemi il senso di questo cancello allora dovrei lasciarlo così allora però in teoria la recensione è sopra vabbè in teoria fate finta che qua c'è e qua è chiuso non si può passare e non ci scappano altrimenti sarà un po' un problema una tutta nera sono rare non le ho mai viste qua su farmi cioè non le ho mai notate comunque ragazzi io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto io vi invito come sempre a lasciare un bel like commentare condividere il video ma soprattutto di iscrivervi al canale su che era fatto come vedete siamo a 389 mila euro arriveremo sotto i 300 molto probabilmente con l'acquisto dalle altre vacche oppure direi di comprarne arrivare a 30 vacche non andare oltre per non spendere troppi soldi io vi invito come sempre a lasciare un bel like commentare condividere il video iscrivervi al canale se è ancora fatto noi ci vediamo domani o più tardi con un nuovissimo video se è più tardi ovviamente MotoGP alle ore o 17 o 18 adesso non so ancora comunque noi ci vediamo al massimo domani con un nuovissimo video lasciate un bel like commentate condividete il video iscrivetevi al canale se è ancora fatto passate nei social e in descrizione e se vi interessa passate su Instagaming per giochi scontati noi ci vediamo domani con un nuovissimo video ciao a tutti i toretti a tutti i toretti